no ma io voglio che quello che parla di nuovo qui una bella puntata di debiro puntata numero 14 non vado male allora vai col blob tu puntata quello tu invece avrai questo mentre io guarda come vola sono sulla difensiva stanno mantenendo quell'area ma muori vabbè fa niente ecco ecco rialzati mi sono debitore mi riposiziono mi riposiziono a terra arrivano granata l'ho l'ho il l'ho 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 Scusate per questi momenti di silenzio 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 Teneteli sotto pressione Scusate per questo 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 posto va Scusate per questo Scusate per questo Scusate perichticine Scusate per市 το Scusate per questo Scusate per questo Scusate per questo Vieni William Arrivo arrivo Io direi di concludere in questi bellissimi corridoi Ci vediamo alla prossima puntata Sempre qui con voi Non sapete che parla Bella a tutti E ciao ciao